Ciao a tutti, bentornati alla seconda settimana di convocati a casa, sempre raccomandazioni, sempre massima accortezza alle disposizioni che il decreto ha previsto, che il nostro governo ha previsto per fronteggiare questa esigenza qui, ma sempre pronti anche a coltivare la nostra passione tramite questa tecnologia che la volta scorsa ci ha un pochettino infastidito, ci ha un pochettino creato dei problemi, ma che questa volta speriamo che ci sesterà fino alla fine. Pronto a rispondere alle vostre domande? Vediamo di cimentarci subito con qualche indicazione, qualche consiglio, qualche aspetto che possa aiutare una pratica casalinga della nostra grande passione. Anna, sentiamo Anna cosa ci propone. Allora, di fronte alla possibilità di potersi allenare nel proprio giardino, la gamma degli esercizi praticabili sono molti. Diciamo che possiamo utilizzare tutti gli esercizi che prevedono il ribalzo della palla alla parete, possiamo utilizzare tutti gli esercizi in cui facendo rimbalzare la palla a terra si può fare qualche esercizio di difesa intervenendo sul ribalzo ovviamente, quindi maggiore distanza dal proprio corpo, dalla propria posizione, minore distanza a seconda di quale tipo di intervento si vuole esercitare e questo ovviamente apre uno scenario di possibili interventi veramente ricco di possibilità. Quindi si può spaziare dal palleggio, dal bagger, ma in giardino basta un piccolo spazio, un piccolo pezzo di muro e già è possibile anche colpire la palla e farla rimbalzare nel muro, quindi esercitare il gesto d'attacco e credo che se lo spazio è sufficiente anche magari tirare un filo per poter fare qualche cosina anche che riguarda l'attacco, tipo auto alzata e attacco, auto alzata, ultimo passo di rincorsa, salto e colpo sulla palla per direzionare il colpo verso qualche bersaglio che volendo e scatenando un po' la fantasia si può porre dall'altra parte del filo. Vedi quanti esercizi si possono fare sono veramente un grande numero, quindi basta scatenare la fantasia e basta collegare le nostre idee a quelli che sono i movimenti che vediamo compiere i nostri beniamini ogni volta che scendono in campo per disputare una partita di pallavollo. Sentiamo Marco, Marco che gioca libero, bene. Suggerimenti per migliorare i riflessi, ma guarda Marco, i riflessi migliorano in proporzione alla capacità di focalizzare dei punti di riferimento in maniera molto precisa, quindi il riflesso in realtà si può descrivere come un focus attentivo, io sono attento a quello che succede, sono attento a dei punti di riferimento molto precisi e questo mi fa guadagnare tempo di reazione, noi allenatori nel nostro gergo quello che tu chiami un riflesso lo chiamiamo un tempo di reazione, quindi la capacità del giocatore di reagire rapidamente al ribazzo della palla, al colpo dell'avversario e quant'altro. E allora il consiglio che ti do è impara a guardare con molta attenzione i riferimenti giusti, ad esempio il movimento del braccio dell'attaccante è un'indicazione molto precisa del fatto che la palla possa arrivare nella tua zona di competenza e sicuramente aspettarsi la palla nella propria zona di competenza migliora quello che tu chiami il riflesso del libero, della difesa. Veder partire la palla al tocco del battitore migliora notevolmente la capacità di spostamento, anzi la precisione di spostamento del ricevitore che affronta un servizio avversario, quindi anche del libero ovviamente che è chiamato ad affrontare su uno spazio generalmente più ampio il servizio avversario. Quindi interpreta come il discorso del riflesso, quindi della velocità di reazione, interpreta come una maggiore richiesta di attenzione a quei punti di riferimento che ti fanno capire che cosa sta per succedere. Federico che è un allenatore, sentiamo cosa... Allora, incuriosito da come è possibile identificare il buon ricevitore già nell'età giovanile, ma su questo sono tanti anni che ci produciamo sopra del materiale e alla fine quel materiale porta con sé l'esperienza di tanti grandi allenatori, quindi è un qualcosa che ho avuto la fortuna di sintetizzare partendo sempre dalle idee che mi arrivavano da grandissimi allenatori che hanno fatto parte della mia carriera professionale, che ne hanno fatto parte come persone che l'hanno aiutata, ma anche come persone con cui ho condiviso anche le partite, diciamo, anche avversari. Ma sostanzialmente per identificare un buon ricevitore il presupposto è che ci sia un buon atteggiamento per quanto riguarda il bagger. Molto spesso parliamo di sensibilità del piano di rimbalzo e sensibilità nella dinamica e nell'atteggiamento degli arti inferiori. Gli arti inferiori devono essere capaci di posizionarti in modo molto preciso rispetto alla traiettoria della palla, perciò è una coordinazione tra i movimenti della palla e i movimenti dei piedi. Sempre gli arti inferiori devono essere capaci di tenerti sempre in costante equilibrio, quindi non creare degli squilibri, perciò è necessario che le caviglie abbiano una grande mobilità e la capacità di chiudere molto l'articolazione della caviglia è un altro indice estremamente importante. Ma reputo che i più importanti siano sempre quelli che toccano la palla, le caratteristiche che si leggono sulle parti del corpo che toccano la palla. Ad esempio il naturale orientamento delle spalle e la guida degli atteggiamenti laterali del bagger sempre attraverso i movimenti delle spalle, credo che sia un elemento fondamentale. Noi la chiamiamo relazione al bersaglio, ossia la capacità di anticipare la palla posizionando il piano di rimbalzo già perfettamente orientato su quello che sarà poi il bersaglio di questo intervento sulla palla. È ovvio che non sono esaustivi, tutto questo non è esaustivo per identificare i ricevitori, però siccome abbiamo visto che queste sono delle condizioni determinanti, ecco che bisogna partire da qui. Poi dopo ci saranno tante altre cose che nella pratica della ricezione diventeranno fondamentali da inserire come il collegamento con tutta la rincorsa dell'attacco, se stiamo parlando di schiacciatori, ricevitori, oppure diciamo che la grande disponibilità di movimento è coprire tanto spazio se stiamo parlando del libero. Giulia. Giulia mi parla della rincorsa invertita, quindi io direi invertita sì, soprattutto nella sequenza di appoggi dell'azione di stacco, quindi no? Perciò per intenderci la sequenza destro-sinistro per l'attaccante destrimane è quella corretta, la sequenza invertita è sinistro-destro, sempre per l'attaccante destrimane che è un'azione invertita. Beh, in questa fascia d'età credo che sia abbastanza doveroso intervenire su questa cosa, quindi intervenire perché è una fascia d'età dove la capacità di apprendimento è straordinaria a parte dei ragazzini e delle ragazzine, di conseguenza credo che sia fondamentale farlo e credo che semplicemente ci siano da fare due cose. Uno, riportare la sequenza perfetta degli appoggi, quindi vuol dire definire una posizione e una postura di partenza e costruirla con la sequenza corretta. Questo però non è sufficiente perché molto spesso alla fonte di questo tipo di errore c'è una carenza coordinativa, quindi poi potrebbero venire a mancare le spinte, quindi è necessario magari intervenire con una collocazione a terra di punti di riferimento con dei piccoli pezzi di nastro adesivo oppure con dei tappetini da saltare, da oltrepassare appunto, ecco, dei riferimenti per guidare la sequenza, quindi guidarla e costruirla con grande attenzione. E' ovvio che la giovane cambia la struttura del movimento, quindi deve percepire questo nuovo movimento, deve percepire questo adattamento e quindi ha bisogno di tanta ripetizione analitica, quindi decontestualizzata dal gioco, fino a che questo meccanismo non acquista un grado di spontaneità tale da essere riprodotto in un'azione di gioco più semplice possibile, che può essere quello di ricevere una palla, quindi simulare una ricezione o una difesa di una freeball e poi collegare il tutto allo sviluppo della propria rincorsa e a una schiacciata su un'alzata della compagna o del compagno, ecco. Mario, Mario, attento al bagger, ok, ci chiede qualcosa per svilupparne la precisione, ma la precisione nasce da un movimento intanto attivo verso la palla, quindi siamo noi che andiamo alla palla e non aspettiamo che la palla viene a noi. Io dico sempre alle ragazze colpisci tu la palla, non farti colpire dalla palla. Questo è il primo presupposto, la seconda cosa è che l'azione del corpo sia orientata sul bersaglio, quindi sulla zona verso dove devo indirizzare la palla, l'ultimo step della precisione lo costruisce il sistema percettivo, quindi l'eseguire il colpo accompagnando insieme allo sguardo la palla sul bersaglio. Queste sono le tre condizioni fondamentali per sviluppare e costruire la precisione. Poi l'esercizio fa il resto, anche perché di solito tutto quello che viene fatto attraverso il bagger nel gioco della palla a volo prevede delle traiettorie abbastanza alte, quindi la relazione col bersaglio di quello che facciamo non è una precisione diretta, è la precisione molto più simile, non è la precisione del tiro del calciatore o del giocatore di palla a mano o delle fraccette, ma è del tiro a canestro, quindi una palla che sviluppa una parabola e che scende con precisione nel punto di riferimento, quindi ci vuole poi la pratica perché questo elemento poi vada a coincidere con l'obiettivo, però i tre presupposti fondamentali sono quelli che abbiamo detto. Ok, domanda di Leslie, allenatrice del settore giovanile, bene. esatto, allora parlava del bagger di difesa e di un dettaglio particolare che abbiamo parlato la volta scorsa, cioè quello di controllare la velocità della palla attraverso un'azione che spezza il piano dell'imbalzo all'articolazione del gomito. ecco, questa situazione qui ovviamente l'efficacia di questo adattamento è un'efficacia che si perde man mano che aumenta la velocità della palla, quindi è necessario nelle forme di allenamento più analitiche dove l'allenatore magari aiuta oppure gli attaccanti che sono un pochettino più dotati di manualità, aiutano l'intervento del difensore, ecco, attraverso un aumento progressivo della velocità della palla si portano questi adattamenti ad essere da adattamenti basati su un movimento controllato, quindi volontario, fino ad arrivare ad essere adattamenti basati su un movimento istintivo e quindi quando noi riusciamo a controllare le massime velocità attraverso un movimento istintivo abbiamo già raggiunto un punto di, un livello di controllo sicuramente molto buono. L'ultimo step anche in questo caso lo fa il fatto di vivere delle situazioni di campo, delle situazioni di gioco, quindi mettersi contro un proprio compagno, un proprio compagno che ci schiaccia addosso e ovviamente che ci schiaccia addosso ma non sempre schiaccia, a volte fa il pallonetto, a volte fa la palla piazzata, a volte fa una palla alta che ci chiama a dare con un intervento in palleggio, ecco, è nella differenzazione che si sviluppano molto bene queste forme di adattamento, quindi la compagna che ci varia, la compagna o il compagno che ci varia un po' tutte queste situazioni ogni tanto fa partire una palla forte in mezzo alle ginocchia, magari anche al di sotto delle ginocchia che sono quelle situazioni dove maggiormente utilizzabile è utilizzato questo adattamento qui del movimento. Ecco Vittorio, vediamo, sentiamo un po', sempre sulla difesa Vittorio ci richiamo. Allora, la domanda di Vittorio sulla difesa è questa, quando è meglio raddoppiare la diagonale o in lungolinea nell'organizzazione della difesa. Io immagino che Vittorio faccia riferimento ai movimenti del giocatore di posto 6, che ovviamente si sposta contro il 4, contro il 2, si sposta o leggermente o più sulla, verso in lungolinea o più verso la diagonale. Ma di solito da questo punto di vista sono un po' le caratteristiche dell'attaccante avversario che ci spingono in questa direzione. Oppure un altro aspetto è legato a un punto debole sul nostro sistema di muro. Quindi, ad esempio, quando si ha a che fare con dei palleggiatori magari un po' più piccoli, oppure giocatori che diciamo che nel sistema di muro lasciano maggiore spiraglio all'attaccante e ci sono parecchie squadre che vanno sul muro debole come criterio per la distribuzione delle alzate, ecco, in quel caso magari posizionare il posto 6 su questo tipo di punto debole ovviamente è uno dei criteri più importanti. Altrimenti, se abbiamo un muro perfetto, un muro alto, un muro efficace, un muro consistente, la scelta si fa proprio sulle caratteristiche del colpo. Ad esempio, riferendoci al posto quattro avversario, vediamo se è un attaccante che anticipa molto la diagonale, se è un attaccante che anticipa e tiene molto alto il colpo, quindi è molto soggetto ai colpi, ai tocchi di muro e quindi ci sarà da correre anche in giro per andare a recuperare un eventuale tocco del muro. Oppure se è un attaccante che ama fare il money out sul giocatore esterno, quindi il money out alto sul giocatore esterno. Ecco, questi sono criteri che suggeriscono i primi con un'idea di posto 6 più verso la diagonale e l'ultimo esempio è più verso il lungo linea. Allora, una richiesta molto molto frequente che ci fa Mattia è quali possono essere gli esercizi per aumentare l'elevazione. Intanto Mattia, credo che l'elevazione e la capacità di saltare sia una cosa che dipenda molto da alcune cose. Allora, intanto il patrimonio genetico che ti hanno fornito i tuoi genitori. In secondo luogo, quanto hai giocato e utilizzato il rimbalzare sul piede, i salti a scendere e a cadere dal lato verso il basso nella tua infanzia. Questi sono elementi fondamentali perché conferiscono una capacità di reattività neuromuscolare al sistema motorio che è un patrimonio fantastico. Ma una cosa meravigliosa poi ci ha la capacità appunto di rimbalzare sul piede per i salti che prevedono una rincolza e poi quando si è un po' più grande ce la darà la forza, la forza delle nostre gambe, la forza del nostro sistema estensorio degli arti inferiori e appunto attraverso questa caratteristica e riuscirà a darci una propulsione importantissima per vincere il nostro peso e vincere il nostro corpo in alto, ma in una fase un pochettino più avanzata della nostra età. Quindi ci sono diverse cose da fare in diversi momenti della crescita, dello sviluppo per guadagnare la capacità di salto. Se abbiamo saltato le prime tappe, ecco, bisogna sempre inserirsi strada facendo con delle metodiche più si è grandi e più si deve ricorrere al discorso della forza. Per cui la forza e la capacità di salto saranno due elementi che incrementeranno, incrementeranno e si svilupperanno un po' mano nella mano. Allora, invece Diana mi fa ritornare a parlare un po' dell'attacco perché è qualche esercizio utile per stendere bene il braccio nel momento, diciamo, di impatto con la palla del colpo dell'attacco. Beh, allora, intanto l'abitudine a colpire la palla a diverse altezze, gomito basso, intermedio, steso. Quindi anche semplicemente andando a colpire contro la parete, senza far semplicemente per il riscaldamento, quindi abituarsi a fare, a differenziare e sentire la differenza che c'è, soprattutto nel controllo. Poi ci sono degli esercizi che basta fare un filo che praticamente deve corrispondere a più o meno l'altezza del nostro polso a braccio stesso. Quindi un'altezza tale che lascia al di sopra del filo, di questo limite, lascia soltanto la mano. Questo è molto importante perché? Perché noi lanciamo la palla e andiamo a colpire al di sopra, assolutamente, del filo, ok? Il filo, magari un elastico è ancora meglio, perché? Perché una volta che io ho colpito al di sopra del filo, posso completare il movimento, agganciare l'elastico, portarlo giù senza correre il rischio di farsi male. Perché una cosa importante da considerare nel colpo d'attacco è che io non fermo il braccio al momento del colpo, ma il colpo è l'impatto che avviene nel colpo d'attacco, è una fase di passaggio del movimento del mio braccio e quindi bisogna insegnarlo attraverso questo accorgimento, cioè insegnarlo proprio come fase di passaggio. Questo e anche questo movimento di inversione delle spalle. Quindi tutta questa sequenza, con questo riferimento, lancio della palla al di sopra del filo e andare a colpire la palla sopra il filo ci impone inevitabilmente sia la distensione del braccio sia soprattutto l'innalzamento della spalla corrispondente, perché questo è un altro elemento molto importante per raggiungere la massima altezza del nostro colpo. Abbiamo una richiesta veramente particolare, la metodologia per rimanere spesi in aria durante la schiacciata. Mi dispiace cercarlo, ma a questa domanda non ti posso che rispondere con la fisica e l'universo fisico in cui viviamo non lo consente di rimanere in aria nel corso di una schiacciata. Quindi è puramente un effetto ottico quello a cui tu fai riferimento, ma è un qualcosa che non esiste. Non c'è un punto in cui noi abbiamo la capacità di fermare il corpo neanche per un istante, oppure se c'è un istante e un istante veramente impercettibile, perché la nostra fase di volo è disegnata da una parabola che identifica un apice e poi c'è una fase discendente immediatamente colgata. Quello che tu vedi, vedi un movimento molto rapido delle braccia, del colpo soprattutto, che avviene sulla spalla e questo movimento estremamente rapido avviene nella fase ultima ascendente, che porta all'impatto con la palla esattamente nell'apice della fase di volo, quindi nella capacità di salto, dopodiché il corpo e il braccio scendono contemporaneamente. Quindi è un effetto ottico quello che hai descritto di tu e quindi non farti trarre l'inganno a questo step qui, perché in realtà nessun atleta ha la capacità di fermarsi in volo e di rimanere in volo. Una domanda di Marco, anche questa che mi viene fatta molto frequentemente, soprattutto dai giovani imparatori, Marco mi chiede quanto si può imparare guardando i grandi campioni giocare in televisione. Allora, Marco, è molto importante guardare i grandi campioni, è molto importante guardare i dettagli del loro movimento, sia come si preparano agli interventi, sia come gestiscono il tocco della palla, sia come collegano, subito dopo aver effettuato il tocco della palla, il loro movimento all'azione successiva. Sono tutti elementi che fanno la motricità del grande campione e soprattutto sono tutti elementi che hanno fatto diventare i grandi campioni quelli che vediamo all'opera. Quindi è molto importante, però fai attenzione, perché vedere come riceve il grande campione, come colpisce la palla con il movimento del braccio, sono elementi che posso, come palleggia il grande palleggiatore, come tratta la palla con le mani, sono elementi che ti possono aiutare fin da subito, puoi guardarli fin dal primo momento e trovi subito delle indicazioni che tu puoi andare tranquillamente in palestra, nel giardino, nel muro della tua camera, in qualsiasi momento, quindi anche in questo periodo e provare a riprodurre quel movimento, così come lo hai interpretato. Ma ci sono movimenti che invece sono molto più difficili da, sono facili da riprodurre magari, ma sono più difficili da riprodurre poi nel gioco, perché dipendono molto da quello che il giocatore avversario, da quello che il grande campione vede nel movimento dell'avversario, presso al movimento del muro. I grandi campioni fanno delle azioni di muro un po' diverse da come fa il giovane giocatore, sia perché ad alto livello si gioca a una velocità nettamente superiore, sia soprattutto perché loro hanno molta più esperienza nel riconoscere la situazione e quindi hanno molta più velocità, molta più reattività. La stessa cosa succede in difesa. Quindi i movimenti fondamentali vanno in questi ancora più in dettaglio, sono piccole cose che tu puoi cogliere fin da subito, quindi alla fine concludiamo che è molto importante guardare, ok? Ma anche nel guardare i grandi giocatori lasciarsi guidare da quello che può consigliare all'allenatore. Domanda di Massimo che è all'Elon Under 12 per correggere la posizione delle mani in palleggio. Allora Massimo, la posizione delle mani deve rispettare innanzitutto una caratteristica, deve toccare una ampia superficie della palla, quindi le mani così non possono toccare tutta la superficie di palla, quindi vuol dire che c'è un'apertura naturale delle mani, un'apertura e una flessione dorsale del polso che consentono di aumentare la superficie di combatto. Poi abbiamo, diciamo, l'azione del polso che determina l'accelerazione della palla e l'azione di pollice e indice che nella loro reciproca ed equilibrata dominanza determinano l'inclinazione di uscita del palleggio, quindi determinano tutti gli adattamenti di cui un buon palleggiatore si serve per costruire le corrette traiettorie di alzata. Quindi gli elementi fondamentali sono questi, quindi l'impostazione, c'è chi per esempio per tanti anni ha professato l'idea del cuore rovesciato, l'idea del cuore rovesciato è una metafora molto utile per posizionare le mani, ma poi sarà la sensibilità che ha nel polso il determinato giocatore a determinare la maggiore apertura degli indici o la maggiore apertura dei pollici. Rispetto alla posizione del cuore rovesciato, della metafora del cuore rovesciato, ad esempio io ho una posizione naturale delle mani che allontana un po' gli indici e io peggio così, quindi la condizione migliore di sensibilità c'è in questa posizione qui, in questa posizione qui. Io non posso andare a forzare perché se vado a forzare questa situazione poi l'atteggiamento delle spalle e i gomiti diventa forzato, diventa rigido e questo incide sulla sensibilità con cui io seguo il pareggio. Quindi attenzione a questi accoglienti. Vediamo le domande se... Vediamo un po' una domanda, sì? Ok, allora, ultima domanda di Giacomo, esatto, che vi chiede come si può fare per migliorare la visione periferica dei centrali a muro. Mi compisco bene se è la visione periferica centrale o la visione periferica del palliatore che guarda i centrali avversari prima di effettuare un palleggio. In ogni caso la questione della visione periferica è una questione molto particolare, nel senso che se noi ci abituiamo a mantenere la visione focalizzata su un punto e ci abituiamo a vedere quello che succede al di fuori della nostra visione, io in questo momento sto fissando la telecamera dello schermo, sto muovendo le mani a una certa distanza. Io non ho una visione nitida delle mie mani in questo momento, però ho una visione del movimento, ho una visione dell'ombro, ho una visione di qualcosa che ovviamente si va a muovere. Ecco, questo è quello che dobbiamo insegnare a cogliere, quindi la presenza, il palliatore sotto la rete che si appreste a toccare e ha la percezione della figura, ovviamente sa che il centrale sta aspettando la sua alzata. il palliatore, il posizionatore che vede il centrale muoversi verso, migliora la visione del centrale, vuol dire che il centrale sta andando, quindi sta andando verso a murare il suo posto 4, il mio compagno di posto 4, oppure il centrale che sparisce completamente dalla mia visuale, probabilmente è andato a murare il mio posto 2. Quindi sono tutte situazioni che ovviamente si sintetizzano un pochettino in l'abitudine a farlo, quindi la visione periferica non richiede un allenamento particolare, la visione richiede un allenamento particolare, ma la visione periferica si atturisce dal fatto di essere capaci di focalizzare un punto di riferimento e cogliere tutti gli aspetti che ne fanno da contorno a questo punto di riferimento qui. Quindi io dico e consiglio, fallo, magari fallo un gioco piuttosto che come si diceva ora, mettendo io qualcuno a fare i marini, qualcosa che sono dettagli troppo piccoli da vedere. E allora questi dettagli richiedono più che altro che il giocatore si giri a guardare quella cosa, distogliendosi un attimo dal palleggio. Magari l'arzatore asperto riesce a far meglio, ma l'arzatore giovane magari perde il controllo poi dal palleggio e quindi è inutile. E allora il coccidore magari facciamolo con quello che effettivamente succede in gioco, quindi vedendo l'atteggiamento del giocatore, quindi cogliendo la presenza del giocatore, più che vedendo cose così di dettaglio come può essere la mano alzata, il numerino, qualcosa di molto preciso. Bene, allora a questo punto anche oggi abbiamo finito il nostro palleggio e ricordiamoci bene le regole che ha proposto e imposto, in qualche caso, il decreto con cui in questo momento stiamo conducendo questa lotta serrata al coronavirus, lavarsi sempre molto bene le mani, evitare gli assembramenti, stare in casa soprattutto, stare in casa e uscire solo per le situazioni di primissima necessità. Queste sono regole fondamentali, hanno aiutato il popolo cinese fuori dalla situazione, veramente che poteva diventare veramente una manca e devono sicuramente contribuire ad aiutare noi a uscire a questa situazione, come del resto continueranno al successo con questa lotta con la coronavirus e tutto il resto d'Europa e il mondo che in questo momento sarà che sia nel pieno di un'immunicazione del contagio. Quindi mi raccomando questa cosa qua, coltiveremo ancora insieme la nostra passione con questi esportamenti e ciao a tutti!